Salve, io sono Pio e bentornati sulla Cazzocraft, la serie di Minecraft Survival con il nome più bello del web. Signori, come potete vedere, ci troviamo più o meno esattamente dove ci eravamo lasciati nello scorso episodio. In realtà la chiusura l'ho fatta tipo qua, adesso mi trovo qui, ma è giusto perché mi sono un attimo spostato per andare a prendere, come vedete dall'inventario, la lana bianca che l'ho presa dalla farm, che purtroppo, vi ricordo al momento, non sta in funzione, non è in funzione, visto che mi faceva laggare tipo di tutto e di più. Se vi andate a vedere qualche episodio fa, c'è tipo lo screen dove c'erano tipo un milione di stringhe tutte in un unico blocco, non ti potevi avvicinare a casa perché laggava tutto a merda. E poi ho preso comunque questi 48 pezzi di lana rossa che ce li avevo lì all'interno del faro e quindi tecnicamente dovrebbero bastarci per fare qui il tendone, che dovremmo andare a fare oggi. Ora però anziché iniziare dal tendone, volevo iniziare da questo qui all'angolo, che sarà una specie di non proprio bar, lo possiamo definire più che altro una specie di punto di ristoro, punto di riposo. Oddio, si potrebbe fare un vero e proprio, una specie di vero e proprio ristorante, però diciamo più che altro un posto dove ci sono tavoli e sedie, dove ti appoggi, ti siedi giusto per rilassarti un po'. Come vedete non ho fatto essenzialmente un cazzo, off camera non ho fatto assolutamente nulla, dovevo fare lì il pavimento non l'ho fatto, dovevo fare il pavimento dentro qui al futuro negozio di bar che non l'ho fatto, dovevo fare un po' di cosette e non ho fatto un cazzo. Ma questo perché sto male, come potete sentire dalla mia voce di merda, c'ho tipo tosse, la voce se ne sta andando, naso chiuso, sto morendo, la leucemia, no non c'ho la leucemia però nel senso, cioè sto tipo morendo, cioè sto male male. E quindi non mi andava di fare un cazzo essenzialmente, anche perché mi sta scoppiando la testa, quindi meno gioco meglio è, meno sto al computer meglio è. Considerate che ieri ho tipo registrato 7-8 video e li ho anche editati, nonostante stessi male, oggi penso che parlo la stessa cosa e non è proprio il massimo. Tra l'altro devo ancora editare due speciali di Natali, sia di Minecraft sia di Call of Duty, quindi è bene ma non benissimo. Comunque signori direi che iniziamo a levare questa terra qui, perché qui come sapete ci dobbiamo andare a fare tutto il muro interno e la pala ogni tanto decide che non deve funzionare. Comunque leviamo tutta questa parte qui, ovviamente la striscia di terra qui rimane perché ci farà da, come lo possiamo chiamare, da pavimento, ecco da pavimento davanti all'entrata. Qui ci sarà l'entrata che non credo farò con la porta, ma comunque adesso andiamo a vedere. Se vedete nell'inventario ho sistemato un po' tutto, ma adesso non so esattamente come voglio fare la roba. Volevo provare a farlo tipo con la berce che è ancora più chiara di questo, però non lo so, dovrei provare. Comunque qui se ne va un bel po' di berce effettivamente e non è proprio il massimo se devo essere sincero. Però potrei provare a fare magari questo qui davanti con la berce che poi in realtà, ma che ci penso? Io ho levato la terra qui, però effettivamente qui non è che ci devo andare a mettere il legno perché inoltre non si vede, quindi lo posso lasciare. Quindi posso fare tipo così, faccio anche qui così. Con l'angolo effettivamente non mi serviva, ma che ci penso? Ma vabbè sti cazzi, tanto comunque qualcosa ce la devo mettere. Considerate che qui io vorrei fare una specie di entrata ad arco, quindi questo qui lo vado a chiudere in questo modo. Qui c'ho due blocchi centrali, quindi vorrei andare a fare magari una cosa di questo tipo, però non così. Magari andiamo a levare queste due e andiamo a mettere magari delle scalette. Potrebbero starci bene delle scalette? Effettivamente però le scalette essendo di planks non è che ci stiano proprio benissimo. Cioè se io adesso vado a scortecciare questi e stonano un po', stonano un po' tanto. E no, non ci stanno molto molto bene, se devo essere sincero. E soprattutto questo non mi sembra nemmeno un arco, cioè troppo troppo stretto per essere un arco. Il problema è che qui comunque vuoi o non vuoi, effettivamente devi andarci a mettere il blocco. Perché comunque qui c'è il muro, il che mi porta a pensare che forse avrei dovuto fare tipo tutto uno più a sinistra, in modo tale da avere più spazio. E non mi va però di scavare tutto questo, quindi ci dobbiamo arrangiare così com'è. Male male, male male. Allora io direi che rompiamo questo, leviamo tutto questo qui, che tanto non penso questa parete la faremo con i planks, cioè con i log. Ci andiamo a prendere i planks, quindi i planks che mettiamo tipo qui. Facciamo pure così, così ce li portiamo di pari passo, ok. Andiamo a mettere due planks qui sopra, poi qui ci andiamo a mettere le scalette come abbiamo fatto prima. E oddio, penso basti così perché alla fine qui se anche ci volessi mettere delle trapdoor, però fatte di schifo berch, sembrano di carta, come vi ho detto nello scorso episodio, e sono un po' brutte. Quindi qui diciamo che possiamo lasciare aperto così. Che non è bellissimo, ma non è manco eccessivamente brutto, mettiamola così. Fa abbastanza cagare, però vabbè, dettagli signori. Comunque diciamo come porta che da sull'esterno da quella parte non è poi così male. Ora, per quanto riguarda il muro da questa parte, credo per forza che dovrò continuare a farlo con i planks. Per il semplice motivo che comunque qui si vede il planks, a meno che di non mettere qualcosa qua davanti, ma cosa cazzo ci potrei mettere? Cioè, ci dovrei mettere tipo un altro pezzo di dark oak magari? Però forse sembrerebbe un po' brutto. Eh, non è proprio il massimo, quindi direi che continuiamo magari con i planks. Considerate che i planks vanno tipo qua, ok. Qui sicuramente salgo. Anzi, vabbè, in realtà devo salire tipo su tutti. Quindi magari facciamo uno, due, uno, due, uno, due, uno e due. La stessa cosa la devo fare qui. Cerchiamo di salire di pari passo in modo tale da non dover fare sali e scendi, ok. Ora, tecnicamente, se vado a levare questo, qui abbiamo la parte dell'entrata, qui possiamo chiudere. Qui ci possiamo mettere pure questo, ok. Non è bellissimo, se devo essere sincero, eh. Anzi, fa abbastanza cagare. Però, però, potrei fare una cosa di questo tipo. Cioè, alzare questo. Alzare anche questo. Andare ad alzare questo qui. Fare, magari, altre scalette non ce l'ho. Se faccio tipo così e poi dove sono, ok, questi qua. Vado a fare una cosa di questo tipo. No, perché qui non si può passare, fa abbastanza cagare. Quindi, leviamo questi, leviamo questi. Facciamo così, leviamo questo, 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 questo. Facciamo, essenzialmente, la stessa cosa qui sopra, con la scaletta che non ho. Quindi, ce l'andiamo a prendere da qua. Ok, facciamoci qualche altra scaletta. Sempre di verde. E ce l'andiamo a mettere qui, laterale. Considerate che anche qui, comunque, lascio, diciamo, aperto. E qui, anziché, metterci delle porte. Che, però, quanto pare, è asimmetrico, o no? No, no, è simmetrico. Ok, va bene. Non so perché avevo visto, tipo, due blocchi qua e uno lì. Lasciate perdere. Probabilmente è la febbre che sta salendo, quindi sto diventando rincoglionito. Comunque, come si fanno i gate? Che non mi ricordo. Credo si facciano con gli sticchettini. Che, però, si fanno, tipo, così. Tipo, in questo modo. Si fanno, tipo, al contrario. Giusto? Sì. Però hanno fatti due. Quindi direi che faccio, tipo, così. Ok. E ne ho tre. E qui posso fare uno, due, tre. Ok. Va bene così. Direi che, magari, qualche altro blocchetto lo metto, tipo, esterno. Giusto per dare un po' di... Di forma, anche qui. O addirittura, potrei fare sempre in Dark Hawk, come ho fatto lì. Quindi andare a prendere la roba in Dark Hawk, che probabilmente ho messo nella cesta. Esatto. C'ho gli scalini. E basta? Davvero? Ok. Pensavo di avere più roba. Però metto, tipo, gli scalini così. Mi vanno assolutamente bene, se devo essere sincero. E poi vado a mettere... Che cazzo vado a mettere? Non lo so. Mettiamo le Trapdoor anche qui. Facciamo le Trapdoor. Dai. Tanto le Trapdoor si fanno... Vabbè, questo qua me lo posso trasformare tutto. Ci facciamo qualche Trapdoor. Vabbè, le faccio otto. Poi in realtà otto non me ne servono, però ci avanzano se li dobbiamo usare anche dopo, eventualmente. Quindi facciamo tipo così. Un'altra qua. Un'altra qui. Ok, ok. Forse il fatto che lì sia più basso non mi fa impazzire. Però adesso vediamo, adesso che vado a fare anche questa parte qui sopra con le Slab. Tanto il tetto comunque lo dobbiamo fare. Quindi andiamo a farci le Slab. Slab ne ho già poche, però troppo poche. Queste 38 dubito che mi bastino. Facciamocene ancora. Ok, uno Stac e 22 credo bastino. Spero. Direi che saliamo da questa parte e ci andiamo a mettere tutte queste fottutissime Slab. Questo lo vado a levare, tanto non ci serve più. Ci serviva solo come appoggio. Vado a fare tutto così e mi faccio tutto il tetto in questo modo. In realtà devo eliminare anche questi. Qui c'andrebbe un altro blocco però. E vabbè dai, poi lo mettiamo. Adesso non ce l'ho nell'inventario. Cioè ce l'ho nell'inventario ma devo aprire, non mi sta andando. Facciamo così, così. E mi completo poi pian piano tutto il tetto fino a dietro. Ci vediamo appena ho finito. Ok, ho finito tutto il tetto. Ho messo anche il pezzettino lì, visto che c'ero, senza poi dover risalire. E diciamo che le mure da questa parte le ho pure, fra parentesi, finite. Magari andrei a mettere questi due scalini qua. Giusto per dare un po' più di forma. Ma più che altro perché ce li ho. Non perché mi servano. Però ce li ho, li metto. E qui direi che basta così. Forse sarebbe bello mettere tipo altri due scalini lì. Non lo so, voglio provare ma... Non so se mi piace. Ma più che altro per vedere se posso riempire un po' di più in qualche modo. Tipo due scalini messi così a cazzo. Sembra abbastanza brutto. Ma tipo tanto. No, leviamo, leviamo. Via, che schifo. Ok, diciamo qui me lo faccio andare bene in questo modo. Qui vabbè, ci abbiamo l'entrata che l'abbiamo fra parentesi finita. Adesso mancherebbe il fare tutta la parte interna. Intanto questi qui li posso andare a levare. E mi serve l'hawk normale. Hawk normale io già un po' qui ce l'ho. Perché il pavimento penso proprio lo faremo in normalissimo hawk. Questo perché comunque sinceramente a me va bene come colore. Non è scuro. Cioè non troppo scuro. Stacca bene con la berge. Quindi sinceramente mi va benissimo così. Ovviamente nei punti che non si vedono ci mettiamo una terra. Perché così risparmiamo materiale. Anche se poi in realtà non è che essenzialmente ci mettiamo senza materiale. Però sempre meglio risparmiare. Questi qua li andiamo a levare. A sto punto io ho visto che ci sono. Andrei a levare anche questi. E farei anche questi hawk. Perché perlomeno continua il pavimento. Che si vede che è tutt'uno. E qui... Non so se lasciare così o fare la parete in berce. Ma penso che faremo la parete in berce. Quindi sicuramente è qui che non si vede. Andiamo a mettere tutto legno. E poi ci andiamo a prendere gli stecchettini di berce. E ci andiamo a fare tutta la berce in questo modo. Ora il posto non sarà chissà quanto grande. Sarà un posto abbastanza stretto. Ma ripeto. Tanto alla fine a noi interessa l'aspetto estetico esterno. Non quello interno. Siamo un po' delle persone brutte. Che ci piace l'aspetto esteriore. Non quello interiore. Ma sti cazzi. Non so perché. Ma sta porta mi sta di asimmetrica. Eppure è simmetrica. Però mi sembra simmetrica. Non lo so. Cioè da dentro vabbè. Sti cazzi. Sta all'angolo. Però vista da fuori sembra simmetrica lo stesso. Ma vabbè. Lasciamo perdere. Ora mi vado a distruggere tutto questo muro qui. Perché comunque devo sostituire anche questo con la berce. E poi ci vediamo quando ho finito. Perché sennò ci metto tre anni di registrazione. Solo per farvi vedere questa parte qui. Nel frattempo penso che mi prenderò un altro Vivinci. Perché sto morendo. E credo effettivamente la febbre si stia alzando di brutto. Quindi evitiamo magari di morire. Anche perché se muoio mentre registro sembrerebbe un po' brutto. Poi chi cazzo ve lo pubblica per farvi vedere che sono morto in registrazione. Eh scusa. Se uno muore mentre registra fa un botto di like. Che fai non lo pubblichi. Sarebbe un peccato. Tra l'altro il timer è appena suonato. Ma sti cazzi. Prima finiamo e poi chiudiamo l'episodio. Ok. Ho cambiato tutte le pareti. Adesso sta bene così. Direi che ci andiamo a fare giusto magari un bancone. Come abbiamo fatto qui. Essendo tipo un'area di storo. Secondo me ci sarebbe bene fare. Più o meno la stessa cosa che ho fatto lì. Però a sto giro lo facciamo magari in questo modo. Rompiamo tutti questi. Vado a rompere anche dietro. Quindi rompo questi laterali. Tutti questi qui. Anche questi qua di terra di sopra. E qui giusto per saccare un po' vado a riutilizzare pure questi qua che ho usato prima. Perlomeno non vanno buttati. Me ne servono altri due. Non ci sono problemi. Li squerciamo. Li squortecciamo. Anzi che è meglio. Qui magari per far finta che sia tipo un mobiletto. Ci possiamo andare a mettere magari dei barrel. Che mi vado a cercare qui. Ok. Uno. Perché non? Aspetta forse devo fare così. Ok. Facciamo così. Tecnicamente un altro ce l'ho già nella cesta. Esatto. Quindi dovrebbero essere cinque se non ho contato male. E invece sono quattro. Perfetto ovviamente. Io come al solito sbaglio. Facciamo così perché così sembrano tipo dei mobiletti con il portello che si può aprire. Mentre qui sopra che sembra un binario bruttissimo. Ci andiamo a fare tipo tutto il ripiano. Però a sto giro lo andiamo a fare con le slab. Che però slab a sto punto io le metterei magari di oak. Giusto per dare un po' più di colore. Ok. Che ci stanno molto bene devo dire. Pensavo peggio. Invece è molto molto carino. Qui davanti il bancone ce lo andiamo a fare con le slabettine di dark oak. Qui ovviamente ci sarà il solido. La solida anzi trapdoor. Che ci permette poi di entrare dietro il bancone. Qui ci andiamo a mettere una schedetta al contrario. Qui sì magari ci sarebbe bene. Non lo so tipo un blocco intero però. Più più carino così. E magari qui ci andiamo a mettere a sto giro una trapdoor fatta di dark oak. Che secondo me è un po' meglio. Come vedete si apre e si chiude. Ok. Sì effettivamente è abbastanza volante. Però non lo so. Cioè dai sinceramente se metto tipo un blocco intero qui mi fa abbastanza cagare. Eh insomma. A meno che di non mettere tipo uno scalino. Quindi magari uno scalino al contrario. Sembra un po' più vuoto al centro. Facciamo tipo così. Eh dai. Dai così ci sta. Sembra troppo una scrivania. Però perlomeno dai non è volante. Ok. Ok. Allora non mi posso lamentare. Come al solito ovviamente qui dietro ci andrà poi un villager. Penso in qualche modo. Vabbè adesso va bene così. Ora per quanto riguarda il locale in sé. La parte quadri che metteremo poi direi di fare qualche tavolo. Anche qualche tavolo qui all'esterno magari giusto uno o due. Qui senz'altro devo andare a chiudere. Con magari un muro. Un muro di non so cosa. Oddio un muro. Sapete che lo posso andare a fare con la cobblestone. Fatta tipo così. Vediamo se c'ho tipo qualche materiale qua. No. Però sicuramente c'ho nella cesta questa parte. Ok. C'ho questo. Questo. Ci prendiamo un po' di mosse. Ci prendiamo. Non lo so che ci prendiamo. La gravel. No. Ci prendiamo l'andesite. Ok. Con questi potrei fare sia il muro sia il pavimento che comunque manca. Quindi facciamo magari una cosa di questo tipo. Questo qui. Questo qui. E qui. E poi uno di questi qui sopra. Ok. Così il muro comunque qui è tutto chiuso. Mi vado a modificare anche questo qua. Ci metto uno di questi qui. Uno di questi qua. L'andesite ce la metto qua. E poi un altro normale qui. Ok. Perfetto. A questo punto mi modifico anche questi. Visto che ci sono. E qui invece ci metto uno di questi qua. Uno di questi qui. Poi ci vado a fare tipo un'andesite qua. Due di questi qua. Uno qui. E uno qui. Ok. E qui semplicemente vado a fare tipo uno e uno. Ok. Mi va benissimo così. C'è la terra che si sta tipo buggando ovunque. Perché non la posso prendere. Ma sti cazzi. Ok. Il pavimento qua l'abbiamo fatto. Vabbè dovrei fare pure lì. Ma a questo punto penso il tendone. Me lo farò un attimo off camera. Tanto non è che c'è niente da fare raga. Cioè devo sostituire qui il. Come cazzo si chiama? Il pavimento. Magari il muro qui dietro. Giusto per farlo sembrare un po' più bello. E poi mettere la lana bianca e rossa qui al posto della terra. Quindi poi magari ve lo faccio vedere direttamente già fatto nel prossimo episodio. Però adesso ci andiamo a fare giusto qualche tavolino con le sedie. Per concludere diciamo questo locale. Ah cazzo manca anche il tendone qui. Eh porca puttana. Me ne ero completamente dimenticato. Porca droga. Eh raga sapete che c'è? Io quasi quasi interromperei. Anche perché mi sta scoppiando la testa. Interromperemo il prossimo episodio. Ci finiamo magari tutta la parte qui interna. Con i tavolini che vi stavo dicendo. A questo punto ci facciamo anche questa parte qui. E ci facciamo la tenda insieme. E così almeno facciamo un altro episodio ulteriore. So che non ho fatto molto in questo episodio. Però rinaccio. Perlomeno abbiamo fatto questa specie di zona ristoro. L'abbiamo iniziato a fare. Purtroppo ve l'ho detto. Sto un po' male. Quindi non è che ho tutta sta forza per fare video. Quindi non posso stare tipo a fare video da 40 minuti. Faccio fatelo andare bene per favore. Così magari nel frattempo mi riprendo un po'. E poi magari nel prossimo episodio. Cioè andiamo a finire tutta sta parte qui. Sto angolino sinistro. Così poi incominciamo col fare tutte le altre parti. Che secondo me poi alla fine pian piano viene un bel progettino. Detto ciò signori. Mi scuso ancora se non ho finito la zona ristoro. Ma tanto come vi ho detto. La finiamo nel prossimo episodio. Sperando di stare un po' meglio. E come al solito. Se il video vi è piaciuto. E spero vi sia piaciuto. Nonostante vi abbia fatto poco. Scusate non so parlare. Magari mettete like. Se invece non vi è piaciuto mettete dislike. Ma commentate dicendomi cosa non vi è piaciuto. In modo tale che possa migliorarmi. Se vi sono simpatico iscrivetevi. Magari attivate la campanella. Che a me come al solito non dispiace mai. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.